Che sin dal momento del suo insediamento a procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri avesse in animo di dichiarare guerra all'abusivismo edilizio, lo si era capito sin da subito. Che poi avesse acceso i riflettori in particolare sulla nostra isola, soprattutto alla luce delle calamità, soprattutto alla luce delle calamità naturali del 2017-2022 con il sisma e l'alluvione, era altrettanto scontato. Adesso però ha trovato un valido alleato nel governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, che al termine di un incontro ha dato la disponibilità dell'ente di Palazzo Santa Lucia a mettere mano alla tasca, eppure in maniera cospicua. De Luca infatti sui suoi canali social scrive che d'intesa con il capo della procura di Napoli Nicola Gratteri, coadiuvato dal procuratore aggiunto Antonio Ricci e dai sostituti Raffaele Barella e Giulio Vanacore, abbiamo tenuto una riunione con i sindaci e i rappresentanti dei comuni di Bacoli, Barano d'Ischia, Forio, Ischia, Pozzoli e Quarto per rendere operative alcune richieste di demolizioni di immobili abusivi situati nelle aree R3 ad elevato rischio idrogeologico. Poi il presidente dell'Aggiunta regionale aggiunge e chiude. La regione Campania ha dato la propria disponibilità a finanziare ad Oras le operazioni di abbattimento, come già fatto lo scorso anno, per il bunker del boss Zagaria a Casa Pesenna. È un ulteriore passo, vogliamo dare un segnale forte e andare avanti sulla strada della legalità e della tutela ambientale. Il segnale è evidente, non farà piacere sull'isola, così come nelle altre realtà interessate da questa nuova crociata. La stagione delle ruspe, insomma, non solo è ben lungi dal terminare, ma si appresta a scrivere anche nuovi capitoli, che potrebbero essere pure molto lunghi.